A Trieste si svolgeranno mercoledì 16 ottobre alle 11.30 i funerali di stato dei due agenti della polizia uccisi in questura. La cerimonia si terrà nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo in piazza Sant'Antonio Nuovo e sarà ufficiata dal Vescovo. Martedì 15 ottobre sarà aperta la Camera Ardente e a partire dalle ore 17 sarà allestita all'interno della questura. Intanto continuano gli omaggi da parte di una moltitudine di persone che arrivano sul posto con un fiore o una preghiera. I volti sorridenti di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta riprese in un video affettuoso durante il lavoro rimangono nei cuori della maggior parte delle persone che continuano a chiedersi come sia potuta accadere una tragedia simile. In quel video mentre sorridevano come sottofondo c'era la canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, e proprio il cantante ha fatto recapitare in segno di omaggio un mazzo di fiori con la scritta Sarete sempre figli delle stelle.